Cosa ho fatto, animale? Cosa c'è di sbagliato in me? Coraggio, tesoro mio. Devi andare, se no una nave partirà senza di te. 17, giusto? 17, esatto. Il saldo. Io adesso ho capito chi sono. Sono una ballerina. Togli i dai piedi, ragazzina. Ciao, Nadia. Sono qui per te. Proprio in questa sala si terrà un'audizione molto importante. Io sono favorevole perché Nadia non faccia l'audizione. Non posso diventare una ballerina perché vengo dalla Siria. Io odio la Siria. Io non ti tradirò mai, Magida. Non balliamo comunque il nostro pezzo. Non puoi incolpare te stessa per quello che sta succedendo. Devi reagire. Balla per te stessa. Balla per tua madre. Balla per me. Io sono una ballerina, mamma. Io sono una ballerina.